cari amici di meccanica agricola buona giornata anche se fuori piove insomma tra un po' arriviamo a metà maggio e abbiamo ancora le piogge non dico di febbraio comunque va bene comunque sto facendo la frizione alla una fiat panda questa frizione aveva più o meno 70.000 chilometri e ho dovuto rifarla perché il pedale della frizione è diventato talmente duro l'unica cosa che non avevo cambiato diciamo a suo tempo era il cavo della frizione l'ho sostituito e di fatto comunque poi diventato sempre più duro comunque smontando mi sono accorto che c'è la frizione vecchia qui un po usurata ha fatto un gradino un po in un modo strano qua sulle alette quindi lavorava un po storta lavorava storta e di fatti anche il cuscinetto all'interno è abbastanza usurata anche la plastica ma soprattutto c'erano le due praticamente le boccole che fanno funzionare la leva di schiaccia il cuscinetto che erano usurate adesso io le ho sostituite ho montato anche già di nuovo il cuscinetto quindi è insomma dovremmo aver risolto il tutto adesso rimonto il cambio e poi lo proviamo comunque questo è quanto già ripuntato insomma la frizione come avete visto io davanti e ci aggiorniamo i prossimi video iscrivetevi e a presto